E' probabilmente la metafora dei nostri tempi, un gruppo di cittadini restano chiusi dentro Villa Medeo e dopo un'ora il custode arriva a liberarli. I prigionieri mandano segnali di fumo, ovvero fotoimmagini, ad un social network come testimonianza di quanto accaduto. Dal loro racconto una campana che avverte della chiusura durata poco o troppo tempo e i cancelli che si sbarrano talmente velocemente che in quasi dieci, non uno in due, ma circa dieci persone non riescono a raggiungere l'uscita principale. Due di loro stanchi di aspettare scavalcano e vanno via. Gli altri attendono le forze dell'ordine. Sono partite telefonate ai carabinieri, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale per andare a liberare i cittadini rimasti chiusi dentro. Forse a causa della congiuntura astrali negative, forse a causa di una mala gestione burocratica amministrativa, forse a causa del plenilunio, sta di fatto che da un po' di tempo a questa parte le ville sono diventate oggetto di cronaca quotidiana. Dalla droga che fare circolare come caramelle a Villa Cordova, sino ad arrivare a Villa Medeo, che diventa prigione. È vero proprio la metafora dei nostri tempi, cittadini imprigionati nelle ville comunali, dentro i luoghi dei quali, come si dice, si è detto per tanto tempo, devono riappropriarsi. Ma riappropriarsi vuol dire scegliere incondizionatamente quando entrare e quando uscire e dove andare. Invece i cittadini ignari sono rimasti ingabbiati nelle maglie di una burocrazia cieca che non si cura della loro presenza. In una sorta di nemesi storica tutto accade nel luogo che porta il nome del suo responsabile, Medeo Falci. Allora non rimane che chiederci di chi è il potere in questa città e di chi sono le mani su questa città.